Ai nostri microfoni la senatrice Eva Longo, ex sindaco di Pellezzano, che di recente ha lasciato il gruppo di Forza Italia, dove è stata eletta al Parlamento, per aderire al nuovo gruppo formato in Senato da Dennis Verdino, ex abbraccio destro di Silvio Berlusconi. Senatrice, perché questa scelta? Ma guardi, innanzitutto siamo stati eletti che era PDL, non Forza Italia, momento storico diverso, abbiamo lasciato insieme ad altri colleghi Forza Italia, ritenendo esaurita un'esperienza che purtroppo non ha portato quello che dovrebbe essere in un momento particolare dell'Italia, la condivisione su alcune scelte economiche e soprattutto sulla gestione del partito che è diventato personale, nel senso che noi abbiamo massimo rispetto per il Presidente Berlusconi, riconosciamo a Berlusconi il grande merito di aver governato l'Italia per oltre 20 anni. Oggi purtroppo il famoso cerchio magico impedisce allo stesso Presidente di avere una visione più liberale di quella che è stata e doveva essere Forza Italia. Una domanda in merito a questa sua scelta, ancora prima quella di Alfano e di altri. Alla luce di tutti questi passaggi di Casacca c'è chi invoca la legge di mandato, ossia se si viene eletto in un partito chiudere il mandato in questo partito altrimenti dimettersi. Lei cosa ne pensa? Guardi, noi quando siamo eletti siamo eletti e rappresentiamo il popolo italiano, i cittadini, innanzitutto chi viene eletto, soprattutto chi come me viene dal territorio, quindi viene dalla preferenza. Io non sono nominato come tanti che siedono da più legislature in Parlamento ma nominati nel senso che sono stati indicati al partito, allora sì. Chi invece è radicato sul territorio e non condivide più la scelta di un partito con il quale è stato eletto perché non c'è la partecipazione democratica non vede il motivo per cui non dovrebbe lasciare il partito per continuare il proprio impegno parlamentare nella condivisione di quello che è stata la scelta territoriale. Ecco lei diceva di territorio, siamo nella Valle dell'Irno, l'ex sindaco di Pelezzano, a Pelezzano è ancora leader della minoranza, a Salerno soprattutto nel centro-destra ma anche nel centro-sinistra si è acceso il dibattito in vista delle prossime amministrative, c'è chi propone le primarie, chi propone un candidato alle società civili, questo a destra, lei che propone invece parlando di Salerno? Guardi, centro-destra a Salerno è allo sbando, manca una leadership seria. Carfagna e Cirielli non lo sono? Sotto alcuni punti di vista no perché fino ad oggi hanno condotto una battaglia che è più personale che politica, nel senso che c'è una guerra tra i due che hanno usciuto purtroppo al centro-destra, vedi la sconfitta alla provincia, a tanti comuni importanti della provincia di Salerno. Cava. Cava, la stessa Eboli che è stato eletto l'amico Massimo Cariello, certamente non scelto dal centro-destra. La Mara Carfagna va bene come esponente nazionale di partito ma ha nulla a che vedere con il territorio. Ecco, un'ultima domanda sulla sua Pellezzano. Lei recentemente ha avuto modo di polemizzare con due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, per comportamenti incivili. Addirittura ha chiesto le dimissioni di questi due consiglieri. Confermo e ribadisco che chiedo le dimissioni dei due consiglieri, del mio ex candidato sindaco e del consigliere Berritto e Giordano, per un comportamento inaudito di mancanza totale di rispetto del ruolo e dell'istituzione. Ricordiamo brevemente che hanno fatto questi due consiglieri. La consigliera Silvia Giordano, se non vado a... Marzia Giordano, ha dipinto con una bomboletta spray una fontana, mentre il consigliere Berritto con altre persone ha fatto un bagno nella fontana pubblica. Il sindaco ha risposto in parte alla Eva Longo, sostenendo che il suo consigliere si resta protagonista invece di un atto, come dire, pittorico, artistico, abbellendo con la sua creatività la fontana. La verità è che c'è un'assenza di rappresentanza a Pellezzano. Il sindaco purtroppo non rappresenta bene l'istituzione. È una giustifica inaudita, perché un consigliere comunale, invertiamo il ruolo, se non fosse stato un consigliere di maggioranza, ma un normale cittadino, penso che il sindaco avrebbe multato, come giusto che abbia fatto con Berritto, lo stesso cittadino. Quindi ha multato quello dell'opposizione e non quello della maggioranza. Poi sulla fontana l'atto è gravissimo, perché le foto lo testimoniano, non ha abbellito. con una bomboletta spray, ha imprattato la fontana di Pellezzano-Quapoluocco, addirittura... Senato, c'è una questione di punto di vista? Non è punto di vista, è discorso di rispetto del territorio, di rispetto di un ruolo, dell'istituzione che a Pellezzano purtroppo non esiste. Sulla fontana in particolare aveva bisogno dell'autorizzazione della sovrintendenza, così come dei proprietari delle case che sono state imprattate dalla consigliera. Un gesto di assoluta inciviltà, sia quello di Berritto, sia quello di Giordano, che testimonia l'assenza di una leadership a Pellezzano, ma in mancanza di progettualità seria. Basti ricordare che sono due anni che approvano il bilancio dell'amministrazione precedente. Quindi tutti gli attacchi che il sindaco Pisapia rivolgeva al sindaco Cidri sono pretestuosi, in quanto oggi è l'assenza totale. Oggi vivono ancora dei finanziamenti targati, mi dispiace dirlo per loro, sindaco Evalonco. Tra l'altro dovrebbero essere anche avvantaggiati per la filiera provincia, regione, governo centrale? Beh, se fossero all'altezza di esserlo, mi risulta che c'è stata una riunione dei sindaci della Valle dell'Irno su sentieri che vanno a costruire dove la Pellezzano è stata assente. C'è una totale assenza del comune di Pellezzano da tutti i tavoli istituzionali.